Lei mi sta dicendo che l'algoritmo che io ho introdotto ha deciso che sono superfluo. E adesso come faccio? No, avevo detto solo con i funghi, i carciofini non mi piacciono. Avviene subito. La sua pizza senza carciofini. E' anche me piace. Buono, buono. Questa è la cucina. Mi piace, la prendo. Senterei cosa fa di lavoro. Insegno a contratto filologia romanza. Radica chic di merda. Con il cuore a sinistra e il portafoglio a destra. Soccola. Scusi, magari stava litigando con qualcuno? No, no, è che io faccio later per arrotondare. Ciao Arturo, io sono Stella, la tua fuber friend ideale. Ciao. E' come se intuisse quello che sento, capisci? E' il meglio delle persone dentro una persona. Puoi continuare a vederti con Stella? Io posso innamorarmi di un ologramma a 199 euro a settimana. Un attimo! Stella! Noi che tutto questo peggio l'abbiamo visto crescere, che cosa abbiamo fatto noi per arginarlo? E sai cosa ci risponderemo? Cosa? Che noi come stronzi rimanemmo a guardare. Me ne frega! Devi pensare di cominciare. Noi ci dobbiamo credere, perché se non ci crediamo noi, è finita. Da cittadino dico grazie, ministro. Forza, capitano. Scusa, ma lo facevi later tu? E che adesso faccio anche lover.